Ma Farda, come stai? Bene, grazie. Sei veramente mia sorella per me. Figurati. Non volevo che fossi sola in un momento così delicato. Ci saranno altre visite, accertamenti, consulti. È umiliante, lo so. Posso farti una domanda? Ma se non puoi rispondere... Dimmi. Tu lo vuoi un figlio di Umberto? Lo voglio. Mi avevi promesso che saresti stato un buono, eh? Che saresti stato un bravo bambino. Andiamo. Siete sicura di non voler rimanere anche voi, principessa? È un momento molto delicato anche per mio marito, devo restargli accanto. Ormai ho deciso. Appena esco di qui vado al comando tedesco. Mi hanno assicurato ufficialmente che potrò raggiungere mio marito in Germania. Bitte? Bitte, princesse. Ma io sono i miei bambini e ho un chauffeur. Abbiamo il amore dei consigli di rispondere. Non, ma questo deve essere un vero. Un momento. È un vero. 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 Grazie a tutti.